Fai la diva, fai la diva, sono una diva, tu nasciste per fare la diva, ma quando mai avanti, ah siamo in diretta, ma che malacumbasta mi fai fare, no scusami, presenta Rosario, ciao Rosario, ciao piacere, vietissima, piacere di tutto mio, ma sai che lo usa così, lui lo usa così il cuore, stai attento per chi ti licenzio, non volevo dire, sta portando un po' male questa cosa, a Paola, a Paola stasera le prepariamo un monitor rivisitato al Passion Frutti, wow non vedo l'ora, anch'io adoro, lo bevo sempre, io adoro, è un bel ragazzo, hai visto che è un bel ragazzo, ma non è che mi devo accasare, mi può finire figlio, è sposata, ma è un bel ragazzo, è un bel ragazzo, sta lì, sta a fare tutti questi coi, guarda, guarda, io le so fare, io le so fare, si proprio, le so fare, non le faccio per non umiliarlo, riesco a fare acrobazie anch'io, ma non te le faccio vedere, ah ma è già pronto, ci siamo quasi, ci siamo, allora e questo è per voi due, quindi questa è, sono sposata, smettila, non sono geloso, ecco, la classica risposta, un ciauro di tovagliolo che non l'ho sentito male la mia, che meraviglia, approvata che mi botto non giure, non è che ti perdiamo? No, no, non mi perdo, tu stai attento che Boschi botte oggi, ah ok, grazie, va bene, basta Carlo, basta, non è troppo buono, io ancora qua sono con la polpetta che devo, anche perché, ora posso anche bere, non vi chiedo perché, ma posso anche bere, allora Rosario, vieni qua, metti qua, metti qua, è l'ultimo giorno per te, saluta i ragazzi, grazie mille veramente per avermi invitato Carlo, grazie mille a tutti voi, siete uno staff bellissimo, perché vi ho visto anche dietro le quinte, lavorare, lavorate bene, di mangiare, di mangiare, si mangia bene, grazie mille veramente, grazie ragazzi, grazie a te Rosario, grazie a te, col cuore, col cuore, grazie, Paola, saluta, grazie a tutti voi per aver seguito la puntata, ovviamente la puntata più bella perché c'ero io, e grazie a Carlo che mi invita sempre, grazie al nostro Rosario che mi ha fatto ambriagare, un bacio a tutti voi, seguite sempre questo matto perché è una persona speciale, sia davanti che dietro le telecamere, ciao! Io vi amo di bene! No, è così, ci vediamo la prossima puntata, bacio a tutti, buonanotte, buongiorno, buonanotte, è favoloso, ciao, basta più Carlo, basta più, ciao, basta più, ah no!